Buongiorno a tutti. Petali nel fango, il libro di Liselotte Parisi. Mi è arrivato, l'ho letto immediatamente, pensavo che fosse un libro molto bello, dato alla sensibilità di Liselotte e così è stato, ne ho avuto la conferma leggendolo. È una storia molto triste, quella di Marlene, la protagonista di Petali nel fango, alla quale succedono tantissime cose piuttosto negative, dure da sopportare, da superare, però Marlene ce la fa e forse perché ha saputo custodire dentro di sé quello spirito da adolescente che serve in molti casi mantenere lungo tutta la nostra vita. È un libro che consiglio a tutte le donne ma soprattutto ai maschietti perché devono imparare a capire come non comportarsi. Buona lettura a tutti, compratelo e leggetelo.